Buon pomeriggio da Dublino da parte di Matteo Cioffi, terza giornata qui al RDS Bolts Bridge per il World Meeting of Families. Come sempre un'altra giornata caratterizzata da tanti incontri, dibattiti e workshop. Nel pomeriggio alle 4.30 si è tenuta come sempre la messa alla Family Arena. Durante la giornata ovviamente non sono mancati i momenti di divertimento e di intrattenimento che hanno coinvolto soprattutto i bambini e i più giovani. Grande atmosfera anche quest'oggi, sta cambiando il tempo e il grande problema sembra che domenica sarà una giornata particolarmente piovosa e che potrebbe rendere bagnata la messa di chiusura al Phoenix Park. Tutto questo però insomma il prologo e la grande attesa sale ovviamente per il Pontefice che arriverà sabato mattina qui in Irlanda. Nel pomeriggio poi ci sarà il trasferimento del Santo Padre a Croc Park dove si terrà dalle ore 19.30 il Festival delle Famiglie. Domenica invece ci sarà la grande messa di chiusura a Phoenix Park. Per tutti gli aggiornamenti e le notizie vi invito a seguire le nostre edizioni di prospettive in francese e in inglese. Per quanto riguarda la parte in italiano il nostro sito salelucedv.org ma soprattutto le pagine Facebook e Twitter. È tutto anche per oggi, grazie e buon proseguimento.